Abdu'l stasera va a letto senza cena, ma i mago mortis e deviate d'amen, stasera mangiano Maiale, 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 maiale Benvenuti, bene giunti, vediamo un po' che ci dicono oggi i tarocchi qui, tra gli effluvi e i bollori dell'infernale, me fete Gesù era biondo, con gli occhi azzurri e ben messo Diceva che gli ultimi saranno i primi Concesso Già, ma da dove si guarda la fila? Adesso Già, ma da dove si guarda la fila? Grazie a tutti Grazie a tutti